Non si ferma l'ondata di dolore del covid oggi. Altre sei vittime calano i contagi. Le regioni chiedono al governo di prorogare il divieto di spostamento anche tra le zone gialle. Grazie alla donazione del farmacista Garilli parte dalla frazione Cassolo di Bobbio un progetto pilota in Italia che prevede l'installazione di defibrillatori alla fermata dei bus. Questa sera alle 20 e 15 su Tele Libertà parte Vivere in Salute i giovedì della Medicina. Una nuova trasmissione condotta dal gastroenterologo professor Fabio Fornari e alle 21 torna quarta dimensione. parrocchie e oratori aprono le porte agli studenti delle superiori per la didattica a distanza nel rispetto dei protocolli sanitari. L'obiettivo è recuperare la socialità. Pallavolo con la vittoria dei Brianzoli. Su Verona si è chiusa la regular season di Superlega. Piacenza scivola al sesto posto. Agli ottavi dei playoff incontrerà Padova.